non ti guarda l'altro perché non mi rispondi tutto non ti guarda l'altro perché non ti guarda l'altro ma che c'è giombrello? che è il ristorante non ti guarda l'altro perché non ti guarda l'altro non ti guarda l'altro perché non ti guarda l'altro ma che c'è giù? non ti guarda l'altro non ti guarda l'altro è giù qualcosa di più non ti guarda l'altro perché non ti guarda l'altro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti